Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, oggi voglio proporvi un video diverso dal solito perché ho pensato di realizzare un look ispirandomi a una foto che ho visto su Instagram mi pare comunque questa foto qui, di questa tizia molto faiga, manga tipo non lo so da che cosa è stato preso questo disegno molto bello, siccome mi ha ispirato tantissimo, tutto molto rosa, tutto molto cute e ho detto quasi quasi mi trucco uguale e ci faccio le foto, però non volevo solo fare le foto, volevo anche fare già che c'era un video perché è un po' che non porto video così sul canale e mi son detta why not? Quindi inizierei subitissimo, sicuramente farò danni perché ho pensato di colorarmi il viso di rosa perché ho messo come vedete la felpa rosa per mantenere il più possibile il rosa che c'è nella foto, insomma, nell'immagine che è rosa il colore della giornata è rosa e la parola della giornata è rosa che brava, mi son preparata anche le mollettine, mi son preparata tutto, ma che cavolo qua come vedete abbiamo il 5G, con blotto, farci una cosa bella, mettiamo questa cosa così, ok dunque, prima di iniziare vi ricordo che se non siete iscritti ancora al mio canale, qua sotto c'è il bottone iscriviti rimediate subito per entrare a far parte della Fair Family, sì questo è un hashtag e lasciatemi un commentino se siete nuovi su questo canale così vi do il benvenuto ho selezionato questa palette, l'unica, perché dato che sarà un trucco molto rosa, utilizzerò solo questo rosa perché vi ricordo che la parola del giorno è appunto rosa, ho visto che il makeup è molto semplice cioè lei semplicemente ha un eyeliner bello special, bello con questo colore che le scende sulle guance e tutto il sangue, insomma voglio fare una roba molto simile, io poi ho anche i miei dentini carini prima preparo la palle con questo bellissimo kit di Milk Makeup e utilizzo, mi sta piacendo tantissimo, questa è la Cooling Water che è praticamente una cosa che va a rinfrescarvi, anche se in realtà non sentite fresco sotto agli occhi però lui dice che ti va a rinfrescare le occhiaia, ecco, quindi lo andiamo a stendere qua è molto molto carino questo, poi tutto azzurro, tutto pastello quindi oggi non sarà un mi preparo con voi, ma sarà un... parliamo solo di makeup perché ci sta ogni tanto, no? questo invece è un siero all'anguria illuminante, pazzesco, bellissimo, anche questo super pastelloso ed è rosa, anzi più salmone, salmone io una cosa che odio di tutte queste cose, di tutti questi prodottini, sono i cappucci perché li perdo e le mie maniche mi fanno sempre cadere tutto, non sono molto affidabili guardate che figa la chiusura oh, questo da Sephora lo potete trovare c'è anche un alienino, mio Dio! l'ho notata adesso oh, vado a bagnare la spugnetta? no, non la vado a bagnare no, perché? lo so che adesso starete insultando la mia persona perché non vado a bagnare la spugnetta io mi rifiuto di andare a bagnare la spugnetta siccome il viso si sarà rosa, però voglio un attimo cancellare queste occhiaie vado con il The Over Achiever Concealer nella tonalità 12G Sugar Biscuit a cancellarmi un po' questo grigiore orrendo copre tantissimo, quindi se avete l'occhiaia abbastanza secca e avete bisogno di idratare il contorno occhi ma coprirlo questo è perfetto dipende da quanto ne stendete, ovviamente e da come l'ho fissato io ho notato che diverse ciprie sopra questo correttore mi davano diversi risultati e adesso vado a stendere Quest di Nars che è molto più chiaro intanto adesso ci facciamo tutte rosa farò tipo un mix di cose con il mio fondotinta Conceal & Define di Makeup Revolution F1 andrò poi mano a mano a schiarirmi la fronte tanto verrà coperta quindi più di tanto non mi vado a truccare vado a mettere un po' di questo qua sopra e vado a fare questa cosa ok per andare a creare il mio fondotinta rosa wow io non capisco perché ogni volta che mi trucco il naso mi cola siccome questo prodotto di NYX non si fissa rimane umido sul viso però utilizzato con questo sta creando una base abbastanza matte quindi mi piace questo contrasto con tutti questi riflessi e queste luci voi vedete poco e niente me ne rendo conto che non è il set perfetto per i video makeup vado a fissare la palpebra con la cipria perché non voglio colorarla questa è la Pro Filter di Fenty Beauty che buon profumo a me questa sul viso non fa un bel effetto però so che piace tantissimo già che ci sono vado a creare un po' di effettino piccolino gigigino di rosa e utilizzo visto che l'utilizzerò anche dopo questa non so l'ho tirata su per prima mi sembrava ok questa è la Bright's mi stava cadendo questa è la Bright's Vivid and Shine and Shadow Palette di Bershka e utilizzo sto rosa vado giusto a dare un po' di ombreggiatura rosa ultimamente mi sono fissata tantissimo con beh Sailor Moon a parte che chi mi segue su Instagram sa che ho ripreso a guardarmi Sailor Moon perché non me lo ricordavo più da piccola impazzivo per Sailor Moon mi sono un po' fissata con questo stile super aesthetic fichissimo delle immagini dei manga e degli anime degli anni 90 che sono secondo me i disegni più belli che facevano una volta adesso sono troppo boh non lo so mi piacevano troppo come li disegnavano il movimento che davano insomma gli anime ora vado a creare l'eyeliner semplicemente perché ogni volta che io registro i video mi scrivo io sto utilizzando lui che tra un po' mi abbandonerà perché è quasi finito e mi piace tantissimo il Subliminal 16 ore Pro Liner di Astra lo vado a portare proprio lontano cioè verso i Caraibi pregate per me grazie ma poi che carini sono i capelli che ti vanno davanti cioè fantastico prendetevi tutta la quarantena per farvi l'eyeliner perché tanto non c'è fretta passaggio successivo piegaciglio My Toy Boy che mi piace tantissimo e sto finendo perfetto adesso vado a creare un po' di contouring sempre con il rosa così ciglia finte ciglia finte utilizzerò queste qua le Sasha di Huda Beauty le numero 11 aspetto che la colla si asciughi per poi andare a sistemare l'eyeliner ora con questa che mi è piaciuta tantissimo di Fenty Beauty è fantastica è la Fly Pansy Longwear Pansy Eyeliner Cos I'm Black perché è nera è super nera si asciuga velocissimamente si fissa e quindi potete utilizzarla anche come eyeliner sfumato e poi rimane lì tutto il giorno io la vado a stendere sotto facendo questa praticamente lineettina verso il basso come ce l'ha questa fantastica ragazza e vado a riportare questa lineettina anche verso il basso già che ci sono subitissimamente con un pennello con un pennello vado a sfumarlo sono proprio carine le pieghe dell'occhio comunque cioè veramente simpatiche più o meno una cosa del genere come ce l'ha lei vado a fare la stessa cosa anche dall'altra parte perfetto stavo facendo questa vabbè sempre con la stessa palette vado a colorarmi di rosa a fare una specie di cosa un po' perché è molto è poco strutturata cioè è proprio fatta così è un po' fatta così raga poi lei è una semilacrima molto sporco cioè non è niente di che no lo sapevo io lo sapevo aaaah mi è entrato con un pennello un po' più piatto quindi quello che ho utilizzato per le linee sperando che non mi manchi vado a creare delle striscioline un po' più intense anche qua il naso anche sul naso ha questa specie di righettina poi a sporcare anche il lato della bocca così sempre con rosa perché è più intenso qua applico il mascara anche nella parte inferiore solo però sulle ciglia esterne adesso applichiamo il rossetto il rossetto che ho scelto dove c'è? il full throttle sempre di NYX che sono molto fighi e ne parlano veramente poche persone la tonalità che ho scelto è un binaccio molto simile a quello che utilizza lei lei ha praticamente la bocca che va verso l'esterno cioè i lati gli angoli della bocca molto in alto e la parte sopra dritta questa tecnica del labbro un po' più all'in su l'avevo fatto quando ero fissata con i make up coreani più che coreani manga proprio mi ispiravo per andare a dare proprio questo effetto un po' più sorridente un po' alla joker io ovviamente per questo make up creo praticamente una base la perfezione sì ok però in post produzione modificherò credo un po' di cose the next part sono i denti io ho questi che sono quelli da vampiro che non ho però la il timbro perché ho cambiato come sapete denti ho cambiato come i vestiti e quindi non mi si incollano più ho dovuto togliere la formina che c'era dentro quindi durante la foto dovrò cercare un modo per tenerli su preoccupiamoci adesso dei capelli che vado a bagnare la frangia a sistemarla e torno subitissimo frangia sistemata ora ho cercato di alzarla un po' di più con la spazzola e il phon ora vado a molto bella anche così in realtà vado a creare i miei buns lei ce li ha tra l'altro tutti scompigliati e vado a legare queste cose se si aprono mi fate un favore tiro un po' i capelli per dare questo effetto come vedete un po' simile al suo e ho da fare la stessa cosa anche di qua quindi lascio cioè capito dovrei avere eh sì eh e mo come faccio sono un genio del male sono un genio questi arrivano dall'alto la prima di 500 io adoro un sacco e non li faccio mai lo so sono stupida ricreare i look cioè a tema capito ispirati a a qualcosa dovrei farne di più secondo voi vi piace questa idea di ricreare foto manga o un po' stile cosplay questo è il look finito fatemi sapere se mi è riuscito abbastanza bene ora mi cimento con le foto e i miei denti cercherò di cercare di cercare di farli star su il patta fix adoro allora la postazione in questo momento è fatta così io voglio utilizzare questo muro per avere un rosa del riflesso del mio neon quindi dovrò togliere tutto sedermi sulla sedia mettere la videocamera qua e fare la foto qua senza fare danni raga mi sta collando il naso è un problema lei nella foto è molto più alta rispetto alla camera la camera è un po' più bassa mi sto trovando bene a parlare di questi dimiti adesso questo è quello che si vede dalla camera come vedete io cercherò adesso di sdraiarmi qua ah tra l'altro devo cambiare le impostazioni metto la modalità foto con l'autoscatto questa pianta mi sto dando fastidio per la foto secondo me il settaggio giusto per la posa della stessa tizia e anzi mi vorrei voltare un po' più così per avere la stessa posa più o meno quindi lei è semplicemente così quindi se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel pollice in su fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo look e ovviamente su instagram vi aspetto anche lì per i commenti mi sembro stranissime io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao